ciao ragazzi oggi parlerò in italiano ditemi poi nei commenti qui sotto se vi piace questa cosa in cui parlo in italiano con i sottotitoli delle altre lingue o se preferite che parli nel mio inglese con i sottotitoli in italiano ok allora oggi oggi non resisto proverò a fare qualche nota con l'organo ho appena finito il mantice e voglio provare se va tutto bene non fate caso alle stonature perché le canne sono ancora da intonare e ci sono solo le canne praticamente della facciata frontale quindi andranno solo alcune note è giusto per è giusto tecnicamente per sentire se va tutto bene e niente andiamo ad ascoltarlo e poi e poi vediamo come vedete le canne sono appena appoggiate perché non sono ancora fissate e ripeto le note sono molto scordate proviamo proviamo l'ottava si sentono i battimenti infatti qui è scordatissimo provo un vibrato ok sembra che funzioni tutto bene direi anzi suono molto bello c'è qualche nota che è un po forse un po troppo rumorosa si sente un po troppo l'aria ma al limite poi dopo quando sarà tutto a posto farò dei ritocchi nell'intonazione per renderla un po più pulita anche se mi piace che resti un pochino sporco non proprio pulitissimo tipo flauto perfetto in modo che ricordi un pochino più gli strumenti medievali per oggi è tutto ci vediamo a questo punto alla prossima volta con l'organo finito magari per suonare qualche pezzo ciao 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 ciao